All'indomani dell'incontro romano tra Regione Puglia e Anas, il Presidente Emiliano e l'Assessore Regionale dei Trasporti Gianni Giannini hanno ribadito ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che la 275 Maglia Leuca è un'opera prioritaria per tutto il territorio salentino e pugliese. Parole che non possono che essere accolte con favore, perché al di là di tutte le polemiche, parlare della Maglia Sant'Avrio di Leuca vuol dire parlare di un'opera che il Salento aspetta da anni. Lo ribadiscono a gran voce i rappresentanti del PD pugliese, un progetto, è bene ricordarlo, rivisitato in chiave ambientale dagli allora Presidenti della provincia di Lecce e della Regione Puglia, Giovanni Pellegrino e Nichi Vendola, i quali hanno pensato all'opera come ad una strada parco che rispetti e tuteli il paesaggio del nostro territorio e ne valorizzi le sue bellezze. Un'idea sulla quale sin da subito c'è stato e c'è ancora oggi ampio consenso da parte delle forze politiche e delle popolazioni coinvolte. In un quadro come questo le parole pronunciate da Emiliano e da Giannini assumono un valore in più e costituiscono quella condizione mancante che può far sì che oggi si possano avviare i lavori. Il Salento aspetta da tempo l'apertura del cantiere che darà lavoro per dieci anni a circa 400 persone e la bonifica delle due discariche abusive rinvenute nei comuni di Alessano e di Tricase. Intervento sul quale oltretutto c'è già l'accordo con le ditte incaricate. Non è più il tempo dei rimpalli e delle promesse mancate. La provincia di Lecce e il capo di Leuca sono stanchi degli impegni non mantenuti, dei continui rinvii e chiedono a gran voce di vedere realizzata una volta per tutte questa importante opera. Alla luce di tutto ciò la battaglia per la realizzazione della metropolitana di superficie del Salento e della Statale 275 deve essere condotta con convinzione e determinazione, proprio come fatto per il Frecciarossa. Gli importanti lavori previsti dal piano vanno tutti in un'unica direzione, rendere il Salento e la Puglia ancora più accessibili. Questo anche grazie all'importante progetto in via di realizzazione della stazione ferroviaria presso l'ospedale Perrino di Brindisi che permetterà ai viaggiatori provenienti da Lecce e Taranto di raggiungere comodamente l'aeroporto del Salento con lo shuttle dedicato ogni 15 minuti.